Sono le 6 di mattina e siamo a Sundsvall, adesso partiamo Sono le 6 di mattina e siamo a tutti Sono le 6 di mattina e siamo a tutti Sono le 6 di mattina e siamo a tutti Sono le 6 di mattina e siamo a tutti Sono le 6 di mattina e siamo a tutti Allora ragazzi siamo a Santa Clausoli dei Park e davanti c'è questa bellezza Santa Clausoli dei Park è un visto tra tutti Vabbè che figata Comunque ho trovato anche Santa Claus, ho fatto la foto e abbiamo iniziato a parlare di... Abbiamo iniziato a parlare della Ferrari, della BMW, della Volvo e poi gli ho iniziato a dire che il Panda è la macchina migliore per fare il giro del mondo Quindi adesso si dovrà comprare un Panda per girare e portare tutti i regali Ragazzi siamo al Husky Park Qui qui al viraggio di Papua Natale Ce ne sono veramente un fottio Per me sta sulle baghe che siano tutte nelle gabbie Per me sta sulle baghe che siano tutte le mie Per me sta sulle baghe che siano tutte le mie Per me sta sulle baghe che siano tutte le mie Per me sta sulle baghe che siano tutte le mie Quindi sto posticino a mangiare e tra tre ore e qualcosa del genere dovremmo arrivare a Caponord Ragazzi siamo finalmente qua E devo andare in macchina perché ho scaricato la batteria bene Ok ragazzi ho cambiato la batteria Qui c'è il riteccio e là c'è il mappamondo Ah sì sì Ce l'abbiamo fatta Ah sì sì Ah sì sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti